5 secondi, sei troppo bello Lucci, sei il mio sogno erotico E' regolare? Beh, mo' la interrompo La frutta che è cantessa Sempre simpaticissimo Lucci Senti, ma ci prenderai Ma dico, ci prenderai per culo come nell'ultimo servizio da Lorena a Roma? Ma io non più per culo, racconto Racconti? Ma tre ore di intervista, sembravamo quattro scemi che mangiano le mele Ma c'eri te pure? No E che ne so, poi dopo devo chiedere a te come si fanno le interviste Ah, me lo chiedi? Va bene, io se vuoi te posso dare una lezione, ma veloce, 5 minuti Non mi puoi rubare il mestiere, voglio dire Grande Lucci, dai saluta i miei amici di Facebook, dai C'è anche il mio fratello che te guarda Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti